Ben ritrovati sul canale YouTube di Monza News, intanto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per ricevere aggiornamenti live su quelli che sono i nostri contenuti, stiamo crescendo, stiamo crescendo molto su Monza News e sui nostri canali social in attesa di riavere la nostra pagina Facebook. La notizia del giorno riportata ieri sera dal Corriere della Sera è che c'è questa trattativa di cessione tra il Monza e gli americani di Gamco con questo Mario Gabelli 82enne che potrebbe essere il nuovo patron del Monza, un patrimonio immenso, potrebbe essere davvero una nuova svolta in positivo per il Monza. Chi è Mario Gabelli? Chi è Gamco? Trovate tutti i dettagli su Monza News, si tratta di un gruppo davvero molto molto importante che sta trattando l'acquisto del Monza. I segnali di una possibile cessione del club Brianzolo li avevamo già avuti negli scorsi mesi, le scorse settimane, addirittura risalgono alla famosa cena con il patron Silvio Berlusconi che diede spettacolo con i commensali, con gli ospiti, con gli sponsor. Annunciò comunque di fatto l'apertura verso proprietari stranieri, verso una possibile cessione di quote di minoranza. Di fatto non si è mai avvicinato nessuno concretamente in questi mesi, adesso però siamo vicini ad una possibile svolta. Quello che sappiamo noi di Monza News è che la trattativa è già stata portata avanti nelle scorse settimane, negli scorsi mesi e quindi siamo veramente ad un possibile punto di svolta che potrebbe concretizzarsi entro la fine di questo 2024. D'altronde da Monzello abbiamo percepito qualche situazione un po' particolare nelle scorse settimane, nei giorni scorsi, di una società non dico assente, però di una società non più come prima, non più strutturata magari come prima. E chiaramente un dipendente, i collaboratori di Monzello si potevano accorgere di queste situazioni che magari al tifoso potevano sfuggire. Sicuramente il tifoso del Monza, l'appassionato dei colori bianco-rossi, si era già accorto di qualcosa di importante nello scorso mercato. Quando Adriano Gagliani aveva provato ad acquistare determinati giocatori che erano già stati annunciati dai siti, dai giornali, mi riferisco per esempio al portiere Gollini, al portiere Keylor Navas, già annunciati su testate assolutamente autorevole. E poi è saltato tutto. Perché è saltato? Noi ve l'abbiamo già detto, per questioni meramente economiche. Quindi c'è stato un problema economico la scorsa estate dove di fatto non è stato fatto un mercato dove sono stati venduti due pezzi pregiati importanti di Gregorio e Colpani, dove sono stati ceduti anche delle giovani promesse, se penso a Ferraris, se penso al giovane centrocampista Marras. Solitamente il Monza invece guardava al proprio futuro puntando magari anche sui giovani, nel settore giovanile. Invece Marras e Ferraris di fatto sono partiti a titolo definitivo anche se il Monza un domani potrà ricevere il 50% di una possibile rivendita. Quindi qualcosa di strano, di particolare, l'avevamo già percepito nelle scorse settimane, nei giorni scorsi. Non è stato sicuramente un fulmine a ciel sereno come era stato invece il passaggio da Nicola Colombo alla proprietà fine. Invece no, ve lo ricorderete, era una notte di settembre, una serata di settembre, quando Sky lanciò la bomba, la breaking news della trattativa tra i Colombo e Silvio Berlusconi che poi si è concretizzata qualche giorno dopo. Stavolta è diverso, stavolta nelle scorse settimane che qualcosa potrebbe cambiare. E cambierà questa trattativa e io credo che non ci saranno delle complicazioni, sicuramente Fininvest cercherà altri interlocutori. Ma qual è la posizione in questo momento di Fininvest? È una posizione di attesa. Ieri un portavoce ha parlato con un paio di testate, col Corriere della Sera e col Sole 24 Ore, confermando i contatti con diversi interlocutori ma non confermando la trattativa con Gamco. Vedremo quello che succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. La mia sensazione personale da giornalista è che siamo davvero a un punto di svolta, che qualcosa potrebbe accadere da qui, da oggi fino alla fine dell'anno solare 2024. Ho questa sensazione. Poi sarà il momento di tirare le somme, di dare un grazie immenso ai Berlusconi a Fininvest, ad Adriano Galliani che però, Adriano Galliani, attenzione, potrebbe avere un ruolo cruciale, potrebbe restare nel club, potrebbe essere un trade unione tra la vecchia proprietà e la nuova proprietà, anche avvicinandoci al mercato di gennaio dove ci sarà bisogno ancora di più rispetto agli anni passati della sua competenza, delle sue conoscenze perché il Monza attuale sappiamo bene che andrà rinforzato a gennaio altrimenti quest'anno potrebbe davvero rischiare grosso. Ma questa è tutta un'altra storia. Scrivetemi qui sotto la vostra opinione se vi augurate davvero questo passaggio societario o se risperate magari chissà di vedere altri gruppi interessati al Monza. Vi aspetto, aspetto i vostri commenti. Ciao! Porta i tuoi eventi live sul palcoscenico digitale. Sei pronto a trasmettere la tua prossima partita, un evento o una conferenza stampa in diretta sui tuoi canali social? Noi ti offriamo tutto ciò di cui hai bisogno per farlo al massimo livello. Con il nostro servizio di streaming professionale garantiamo Regia TV avanzata per una trasmissione impeccabile Operatori videoprofessionisti per riprese di alta qualità Giornalisti esperti per commentare l'evento in diretta Scegli tu dove andare live Facebook, YouTube, Instagram o qualsiasi altra piattaforma Noi ci occupiamo di tutto il resto Non perdere l'occasione di far vivere al tuo pubblico l'emozione del live Contattaci ora e rendi il tuo evento indimenticabile Grazie mille Grazie mille Grazie mille